Fa discutere a Valfabbrica e le immagini sono state girate da un nostro telespettatore lo smantellamento disposto dal comune della fontana costruita 20 anni fa unitamente alla pavimentazione che storge proprio al centro della cittadina in piazza Mazzini ormai divenuto classico punto di ritrovo di numerosi residenti. L'intervento di smantellamento dell'amministrazione sarebbe giustificato dalla mancanza di fondi per la manutenzione straordinaria. Ci scrive un telespettatore a pile sui iniziali lamenta da un lato la mancata manutenzione della fontana ormai da 2-3 anni e dall'altra fa appello a rivedere tale decisione sostenuto da numerosi cittadini a nome dei quali formula questa segnalazione alla nostra redazione con tanto di piccola clip video e di documentazione fotografica. Rimuovere dei simboli dice significa cancellare la memoria creare dei non luoghi lo dice in una lettera diffusa in questi giorni che si conclude ricordando che a Valfabbrica ci sono eccellenti operatori di restauro e conservazione che potrebbero essere coinvolti prima di procedere a smantellare la fontana. Allora ve lo ricordiamo tutte le segnalazioni le potete inviare a trg chiocciola trgmedia.it oppure segnalarcene sulla nostra pagina facebook.